partenza ecco qua allora beh ciao a tutti innanzitutto oggi è andata non bene benissimo giornata non calda 19 gradi 19 ma non era male però sembra ci fosse più fresco c'è un po di arietta c'è un po di venticia allora un messaggio dedicato un messaggio particolarmente particolare dedicato a filippo tati che sta mandando messaggi minatori prende per il culo allora invece di continuare a battere la ciolla e tirare il belino ai cocodrilli potevi venire cioè nessuno te l'ha impedito e ti avevano chiesto tutte le lingue e tu continui a diseminare la ciolla e continui il parcheggio le esse lunghe qui e intanto qua si smanetta poco molto che faccio smanetto te invece non solo te tu magari ti smanetterai qualcosa tu giochi con la playstation invece giochi a care of duty anche mio figlio giocava dieci anni fa a 18 anni vedi un po te se vuoi gli dico di fare una una battaglietta online niente stasera andiamo a mangiare in un locale di omosessuali oh oh oh